Udite udite, pensate che in tv il buon Gianni Scotti ha fatto un annuncio straordinario, meraviglioso, infatti sarebbe pronto il suo disco di Natale, il titolo sarà Jerry Christmas, di un'altra novità per il famoso conduttore, lo stesso infatti avrebbe detto che è pronto il suo disco di Natale, stufo, stanco, di far fare cose agli altri, finalmente vuole farlo lui stesso e lo ha annunciato lui stesso in diretta tv, ma anche su R101, il programma dichiara Tortorella, si intitolerà Jerry Christmas, sarà un disco tutto da degustare a livello sonoro, a livello musicale, dove il buon Jerry si è divertito in un poco, facendo sapere a tutti che è rimasto contento, l'aggianto Giulivo ne ha realizzato finalmente un disco nuovo, bello, innovativo, affascinante, pieno di emozioni e di fascino. Bene, complimenti al grande Jerry, personaggio di spirito e della tv italiana che non passa di certo inosservato e che sempre riesce a fare grandi cose, come nel caso di Spice. Il video termina qua, iscrivetevi e commentate. Ciao a tutti, complimenti di Jerry Scotti, questo video non vuole leggere le parole dei grandi Jerry, complimentarmi con lui e quello sì, non leggere la sua pregosi. Iscrivetevi e commentate, ciao a tutti e una buona giornata a voi.